Sembra che si guardi troppo la classifica e non magari al valore di quello che si è fatto in campo. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci è mancato il gol, poi il secondo siamo andati un po' di contenimento perché comunque abbiamo giocato giovedì in Coppa, eravamo un po' stanchi, a centrocampo siamo pochi, siamo contati perché qualche giocatura l'abbiamo perso, stata facendo nel corso di questi mesi, quindi non abbiamo rischiato nulla, però poi è capitato questo rigore, pazienza, non importa. Diciamo che c'è stato un adattamento alla categoria, sinceramente sono rimasto sorpreso anch'io, non mi aspettavo perché pensavo che ce l'avremmo potuta comunque fare tranquillamente. Poi è arrivata la svolta con il Canusa in casa che ci ha dato il via a una serie di risultati utili, sinceramente oggi ho visto un'altra gran bella prestazione da parte dei ragazzi, non mi aspettavo sinceramente di perdere, se qualcuno mi avesse chiesto alla fine del primo tempo avrebbe detto che probabilmente al 60-70% l'avremmo vinta la partita, infatti non abbiamo rischiato nulla, abbiamo preso gol sul calcio di rigore. Quindi che dire, ripartiamo, dobbiamo fare i più punti possibili e uscire da queste sabbie mobili perché comunque la prestazione alla fine non ti salva, bisogna fare i punti e guardare la realtà oggi della classifica. Ora dobbiamo recuperare subito le energie perché giovedì ci aspetta un altro incontro difficile con il Manfredonia e vedremo di giocarci tutte le chance anche giovedì.